Signor Sindaco La vedo con gli occhi lucidi, signor Sindaco Beh, è qualcosa di importante per tutta la città, per il territorio Ringraziamo la compaggine sportiva Diamo il massimo onore anche al Cavaliere Benito Stif Perché sicuramente ci ha messo del suo È una risposta di tutto il territorio Anche a quella che è stata una letteratura cinematografica Che per anni ha sempre cercato di umiliare questo territorio E quindi è una risposta non solo dello sport ma anche della città Grazie Grazie